Signore e signori, l'Associazione Parrucchieri Calabresi è lì per presentarvi per un'ultima volta e io e le storie invece! No! Allora, come andate con la ditta? Bene! Allora, grazie! Non scherziamo, lei non è come tutte le altre E non è lungo, 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 quando ci di lei Allora, innanzitutto non è neanche certo che sia una donna In ogni caso è simpaticissima, bellissima, altissima Ha delle mani lunghissime, le ucchie, noi non ne parliamo, sono lunghissime E non è certo che questo è un tuo parolo No, ma buone possibilità Allora ci vediamo questa sera Una serata tra amici, una chitarra lunghi e lei E amici, purtroppo, proprio io questa sera c'è un concetto importantissimo a Roma L'ultimo, poi subito dopo devo accompagnare i suoi genitori a Berneretino Perché sono rimasti senza macchina, l'hanno distrutta, pensate Siamo tutti i serbi della trema Vediamo dentro il cuore una canzone di triste Siamo tutti i serbi della trema, testa alta Verso il terremoto che ci esalta In prima gioana le pastiche Non si assume solo il cuore di picche Sentite la trema in una stanza Ma le strettizzate da una strozza Con él, oltimo, poi città Non si assume solo il cuore di picche Siene la trama in una stanza Lo fatt � зат σου Luce este tema Sì, 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 sì Sì, 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 sì Sì, 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 Senti nella clema tutta birra, carichi dietro i primi scuora, vuole il piove mazzi del ghiaccio, lo è col nostro canico di spazio. Senti nella clema tutta birra, carichi dietro i primi scuora, vuole il piove mazzi del ghiaccio, lo è colpito. Pronto? Ciao, sono io. Scusa se ti chiama a quest'ora, non so che è un po' tardi. Ma non puoi subito. Ho saputo che torna a sera, sei uscita con Taffana, sei andata che ti chiede. Ah no, ma tranquilla, puoi uscire con che ti pare, che ancora non è un problema. Il punto che ti ha coinvoltato al cinema, e mi hai detto, sì, mi hai detto, sì, poi vengo a sapere dagli amici che sei uscita con lui. Non è bello? Non è bello perché io sono una persona e ho dei sentimenti e quando hai avuto bisogno di qualcuno io ci sono sempre stato. Allora, perché mi devi trattare in questo modo? Io non te lo merito. Cioè, onestamente, non mi puoi trattare come un po' pazzo, non ti ho dato a via. Ma se vuoi faccio? Dopo vent'anni, pretendi che ancora mi metta la scopa in culo e ti ramazzano? No, non mi faccio nulla. Sì, sono dei miei amici che la pensano con te. E io, basta, 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 sono stufo. E poi, scusate, potete finire la telefonata perché è una roba che c'ho dentro, ormai è andata da troppo tempo. Anche la scopa di Sacini è un sistema obsoleto, è uno strumento superato. Il manico in legno grezzo mi fa tutte delle irritazioni. mi dà fastidio. Ma adesso sei anche un bitoxi, sei da cagna, ma investi 20 euro, coprami il panno Swiffer, non lo so, un mocio, un mocio che è così bello, è così pratico, posso anche dare la cera, posso fare delle altre cose. E poi anche quella bellissima e pratica funzione di strizzatura, che funziona così sostanzialmente, che alla fine, mentre mi occupo dell'igiene del tuo, dell'igiene, anzi del tuo ambiente, ho anch'io con la minima soddisfazione. Non un semplice fascista, ma una persona, un uomo, che ha sofferto e finalmente è riuscito ad affrontare sconfiggere le sue paure. Sì! Saso! Grazie! Sì, siamo degli esseri umani, adesso vi abbiamo voluto dare questa opportunità, visto che è l'ultima volta che si eseguisce di fronte a un grande pubblico, anzi, fatemi un bel applauso, siete in venti, bravissimi! Sì, è un male per gli uomini, invece che potremmo in grado, saranno di parvenire sempre, continuamente, mentre si risponda alla musica. E bisogna stare sempre fermi, come dei vecchi, muoversi, muoversi, dai, dai ragazzi, siamo giovani. Benissimo! Allora, cari amici, è molto bello per noi essere qui, ancora da ex Elio Restorietese. Noi ci siamo sciolti ormai sei mesi fa, ma vogliamo darvi un grande ciao, vogliamo dirvi, anzi, un grande ciao, e vogliamo eseguire, anche per l'ultima volta, brani che probabilmente non verranno mai più eseguiti da nessuno. Un po' perché sono complicati, ma principalmente perché sono brutti. in ogni caso, se voi siete più in dire, mi piacciono, non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace. E d'altra parte, la bellezza è schiavitù, e la bruttezza è una virtù. Quindi noi venite e eseguiamo un altro. Vai ragazzi! Sono un noto pura di no, che non dice mai la verità, sono un punto senza piccio, ma c'è che il don non ci sta. Sovrotato senza il pistolino, non è molto, no, non cazzo no, nel pochetti mammo me lo fa. Sono un uomo pura di no, con il mio legno, con il mio legno non un'unità. Sono ceppo con la ceppa, grazie al ceppo mio papà, si si china la papà bocchina, sento la mozza dentro, che mi all'ioe so com'è, ed è letta una specie di frubbe. «Spruggio» «Spruggio» sento che «Spruggio» se mi bene, se mi uccigliono, quando da parli do. «Spruggio» faccio uno scandalo, guamaro, 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 la mia pasta del capitano. Vai all'italiana! Nel paese, nei palocchi, con una fama in discusa di premoni, la mia casa è una ballena, mi cittino prima o poi. Mangia a fuoco, melocato fuoco, col peccato, per il cazzo. Poi mi metto il grillo e il culo, più ci penso e più mi viene volato. Distrugio, ragazzi, distrugio, se mi vede essere un signor, con l'espressione d'acido. Ti auguro, grazie a tu il matolo, vuol danno, vuol danno, vuol danno, il saluto con l'altra mano. Salute! Salute! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.